Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 5 km di coda per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. In FIPILI code in uscita a Firenze Viadotto all'Indiano provenendo da Livorno. Rallentamenti per lavori tra Firenze Viadotto all'Indiano e Firenze Scandicci in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Vistiperina fino al 20 dicembre scambio di carreggiata tra i km 140-500 e 142-900 nei comuni di Pieve, Santo Stefano e San Sepolcro. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info